Bentornati su Balconi TV Sasser, io sono Laura e con noi oggi Anice Fa Musica, ciao! Ciao a tutti! Cosa ascoltiamo? Oggi ascolterete Andare del prossimo EP di Anice Fa Musica. Benissimo, enjoy the show! Non trovo mai nessuno che mi rappresenti Forse perché da solo basto avanzo Sarà che bevo troppo, sono stronzo e narcisista E poi non trovo gente che confida in me Lasciami andare, lasciami andare Lasciami andare, lasciami andare E voglio gridare ancora Non sono un presidente, un assessore, un impiegato Sono solo un musicista, un po' depresso e marginato Sarà che mi hanno abbandonato quando ero infantile Non è che ora sia maturo, ma ci proverò Lasciami andare, lasciami andare Lasciami andare Lasciami andare, voglio gridare ancora Lasciami andare, non posso aspettare ancora Grazie, complimenti Grazie a voi Allora, raccontaci un po' come è nato Anice Fa Musica Cosa c'è dietro questo nome? Allora, dietro questo nome Anice Fa Musica ci sono almeno due persone Infatti questo progetto è nato durante un mio viaggio a Nizza Tramite questa amica in comune ho conosciuto questo artista appunto di Nizza Da lì è nata la collaborazione La collaborazione appunto prevede due progetti Uno è questo e l'altro è a Nizza Per contratto io non posso dire il suo nome Il nome dell'artista e il nome del suo progetto E lui viceversa con me Però entrambe le persone collaborano Ovvero lui mi manda un testo Io gli scrivo la musica e viceversa Curiosa questa collaborazione Sì, è diversa Sì, sì, diversa Ma vi incontrate ogni tanto? Ogni tanto sì Cerchiamo il più possibile di incontrarci Magari o lui viene qui in Sardegna Oppure io vado lì a Nizza Però ci proviamo Ma vi esibite anche insieme quando vi incontrate? No, perché se ci esibissimo assieme Lo spettatore scoprirebbe appunto Chi è l'altra persona sotto Ok, benissimo Ascolta, stavi preparando un EP di questo progetto? Sì, sto preparando un EP che ancora non ha un nome O forse sì Niente, prevederà cinque brani Ogni brano avrà un genere diverso Non perché qualcuno potrà dire Eh sì, non riesci a fare un genere singolo Invece no Perché è più divertente variare Bisogna variare nella vita Grande E hai qualche data da segnalarci prossimamente? Certamente Allora il 19 suonerò per l'Informa Giovani Music Contest Dopodiché il 23 a Stintino Cioè domani Cioè domani Suonero a Stintino appunto durante la rassegna musicale Notte d'Autore Ok Un'ultima cosa Un sito o una pagina Facebook dove controllare i tuoi movimenti? Mi trovate o ci trovate, dipende Sia su Facebook, Anice Fà Musica Oppure su Instagram, Anice Fà Foto Ok, benissimo Io ti ringrazio per essere stato qua con noi Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto A te e al tuo collega Anizza Da Balconi TV Sassari è tutto Io sono Laura Anice Fà Musica Grazie a tutti